Franco Pini, veterano dell'Ariano International Film Festival, siamo arrivati alla sesta edizione, come lo trovi questo festival? Cambiato? Cambiato in meglio, soprattutto perché le opere ne arrivano, i progetti, i film, i corti, ne arrivano sempre di più e sempre di maggiore qualità, questo vuol dire che sta lasciando il segno il festival, quindi la grande crescita del festival è proprio segnata dal numero delle opere che arrivano e dalla qualità e questo sta succedendo. Un consiglio che magari potresti dare tu stesso al festival per migliorarsi? Beh, il festival deve riuscire ad abbracciare sempre di più quello che è il contatto col pubblico, riuscire a creare un tramite tra la parte culturale del festival e quello che è il prendere per il mano il pubblico, il pubblico è sempre preso per mano, va aiutato ad arrivare a venire al cinema, a seguire, quindi deve diventare una festa popolare della cultura cinematografica. Questa è l'evoluzione possibile. Grazie Franco. Grazie a te, grazie a voi. Grazie alla vostra collaborazione, perché l'Ariano International Film Festival vive grazie a voi. Grazie veramente. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a tutti.